Non essere nervoso. Hai qualche consiglio? Non fare casini? Ti amo, Ronnie. Ti amo anch'io. Facciamo una foto. D'accordo. Sorridete. Ehi, mondo! Io amo Melissa Moody! Melissa. Ciao, Philip. Wow. Beh, è passato tanto tempo. Vi sembrava strano vedermi spuntare qui dopo tutti questi anni? Ho fatto l'amore con una sola persona. Ed era Ronnie la notte in cui è morto cinque anni fa. Questo bambino che sta per nascere è di Ronnie. Portala fuori da casa mia. È assolutamente impossibile. Non assolutamente impossibile. È successo un miracolo. Ti è sembrata equilibrata? Perché lo stai facendo? Ronnie avrebbe voluto che le restassi vicino. Fra voi c'era qualcosa di speciale. Ci sono più risposte di quelle che puoi toccare e vedere. Non sono pazza, ma è la sola risposta che c'è. Davvero? Mi sento confusa. Mi sento confusa.